Durante il weekend, Donald Trump ha firmato l'ennesimo ordine esecutivo. Fermiamoci subito subito qui. Cosa è un ordine esecutivo? È un documento emanato dalla Presidenza che ha applicazione immediata. Per lo meno, sinchè non ci si renda conto che le decisioni inserite in quell'ordine siano illegali o incostituzionali. In quel caso saranno impugnate. Cosa che in effetti sta già succedendo, perché grazie a centinaia d'anni di storia si è imparato anche se a molti non entra in testa che il sistema dei pesi e dei contrappesi è un'ottima cosa. L'avete visto Trump in questi giorni, no? Firma i suoi documentini e li mostra tutto tronfio come un bambino che cerca di impressionare i parenti con i suoi scarabocchi aspettando l'applauso e che gli dicano bravo e appendano quella roba lì al frigorifero. In questo caso, sugli scarabocchi, un totale shutdown per l'ingresso non soltanto per i profughi ma per tutti gli individui anche che vivessero precedentemente negli Stati Uniti non importa che arrivano nel paese da Iraq, Iran, Siria, Sudan, Libia, Somalia e Yemen e cercherò appunto di entrare perché no, tutto chiuso per tre mesi, così arbitrario. Aaaaaah, eccoci qui, 2017 e le buone politiche, ne sto parlando ma fatico a credere che questa roba qui stia effettivamente accadendo. L'ordine esecutivo si è concretizzato sabato quando centinaia di viaggiatori sono stati fermati in massa e trattenuti negli aeroporti di molte città americane dopo che ai controlli sono risultati nati in uno di questi paesi. Una cosa interessante è infatti che la discussione anche spinta dal nome che si è dato all'evento Muslim Ban è ruotata attorno al fatto che questi paesi siano la maggioranza islamica mentre personalmente lo ritengo un dettaglio abbastanza secondario La parte importante è che sei nato in Giamaica? Puoi passare. Sei nato in Somalia? No, tu non puoi passare, non ci interessa chi sei, cosa fai, quali siano i tuoi progetti, la tua storia Non vogliamo Somali, nessuno può entrare Dopo ore di totale sconcerto con persone che da anni lavoravano e vivevano negli Stati Uniti anche professionisti noti e affermati, docenti universitari e quant'altro che venivano comunque bloccati in aeroporto e non sono stati rimpatriati senza senso in un paese nel quale non vivono soltanto grazie all'intervento di un giudice federale, Ann Connelly seguito poi da altri suoi colleghi di altre corti nella notte è dovuto intervenire il ministro della sicurezza nazionale a confermare ufficialmente che perlomeno i possessori di green card quindi le autorizzazioni di residenza negli Stati Uniti quelle che otterremmo anche io o tu se volessimo trasferirsi a Vivene USA loro possono rimanere quindi vorrei che fosse chiaro quello che è successo il presidente firma un decreto che per sua natura è ad applicazione immediata questo decreto in poche ore crea dei casini a breve termine e anche a lungo termine ma poi ci arriviamo e varie altre figure devono intervenire per sistemare la sua cagata insomma il leader del quale il mondo non sono sicuro necessitasse ma sicuramente quello che si merita non si poteva quindi aspettare a fare le cose bene scrivendola meglio sta cosa e lasciando dopo il tempo a questo signore settantenne di mostrare a tutti il suo album di figurine e farsi ripetere quanto sia bello e forte tutto d'un pezzo nonostante i suoi settant'anni e ribadendo a chiunque gli dica che non è vero che sono fake news sì, certo che sì ma non se il tuo obiettivo è quello di far parlare di te e convincere il tuo elettorato fedele e i tuoi fan nel mondo che fai parte del mondo del fare ah, lui sì che è un presidente che fa quello che dice e dice quello che fa e nel frattempo la stanza è in fiamme e la gente dietro a raccogliere i cocci ovviamente mentre politici di tutto il mondo da Canada a Germania condannano con forza questa presa di posizione che è inimmaginabile arrivare dagli Stati Uniti un paese fondato da immigrati e profughi che ha sempre fatto della sua forza il fatto che chiunque a prescindere dal suo passato potesse lavorare duramente e rifarsi una vita e mentre oltretutto aziende come Uber e Starbucks decidono di risarcire i propri dipendenti danneggiati da questa politica estanziale dei fondi per far fronte a una decisione che ritengono sbagliata la politica italiana, come al solito, è invece timidissima nelle poche condanne e caldissima nell'abbracciare l'operato di Trump e mi riferisco ovviamente al mondo leghista e a quello grillino tutti ad esultare mentre questa scelta veniva presa durante il giorno della memoria mai più discriminazioni ma che si fottano i somali, gli iracheni, i siriani e tutta quella merda lì Evviva! Ah, ovviamente Uber e Starbucks sono immediatamente diventate establishment ma avete presente quello che ho scritto l'altro giorno sul blog, no? Loro sono establishment multinazionali cattive che, non so, schiacciano la gente vendendogli caffè o dando la possibilità a chiunque di guadagnare qualcosa dando dei passaggi in macchina ma Trump, lui, meganomene miliardario che in Italia sarebbe definito il più grande palazzinaro del paese quello no, quello non è establishment ok, ha senso continuiamo a ripetercelo che magari il trip sta per finire in tutto questo, peraltro, il presidente ha deciso di diminuire il numero di richiedenti asilo che saranno accettati nel paese dimezzando il numero dalle precedenti 110.000 unità che se già ci pensate sono pochissime rispetto a quello che si prendono sulle spalle, non dico l'Europa ma soltanto paesi come la Turchia a 50.000 l'anno in questo caso parliamo proprio di profughi, invece, uomini, donne e bambini che scappano il grande pericolo per la democrazia americana, no? quindi, non sapendo come impostarlo in questo video, troppa roba e poco tempo, facciamo così grafica e poi rispondo a una raffica di banalità avanzate sul web in merito a questo gesto da chi difenderebbe Trump anche se tra le sue decisioni ci fosse quella di pestargli la mamma con un bastone cosa che, peraltro, arriva assieme al reinserimento della tortura tra le pratiche consentite ai servizi segreti ovviamente, anche questa cosa corredata dalla scenetta del libricino e tutto il resto che se introduci il medioevo di nuovo nel tuo paese ma non lo fai mostrando quanto tu sia bravo a mettere una firma in un documento non sei nessuno Benissimo, eccoci qui Pronti? Questa è la puntata di Breaking Italy più strana di sempre ma non riesco a capacitarmi di quello che sta succedendo Via Non ha senso criticare un politico democraticamente eletto che rispetta il programma Questa è ripetuta all'inverosimile e arriva direttamente da uno dei miei politici preferiti, Carlo Sibilia e le critiche hanno senso, invece, hanno super senso e le persone che protestano con cartelloni e cortei e occupando aeroporti fanno più che bene a protestare La concezione che abbiamo di potere in occidente si è evoluta da il re fa come vuole e si scova pure tua moglie, un pochino Ricordiamoci che Trump avrà anche vinto le elezioni ma da chi non lo ha votato è già il presidente meno gradito di sempre è riuscito ad avere la stessa bassissima popolarità che Bush aveva dopo tre anni di mandato e ci è riuscito in una settimana non persone che non lo amano persone che disapprovano completamente il suo operato queste persone non scompaiono sono americani che contribuiscono alla propria società e comunità e quindi si lamentano e si oppongono come possono ed è giusto così, in democrazia funziona così se Jeffrey Baratheon avesse vinto le elezioni e la gente potesse protestare senza ritrovarsi appesa ai pali sono abbastanza sicuro lo farebbe con altrettanto vigore e sicuramente sarebbero accusati di buonismo no? Quei buonisti che non capiscono che Jeffrey è ciò che ci vuole per rendere King's Landing di nuovo grande pugno di ferro, regole dure infatti ha funzionato alla grande la cosa che mi fa impazzire dalla gioia è che questa roba arrivi da un politico di opposizione il quale lavoro che poi è il sogno di ogni italiano che lo fa per hobby dato che è lo sport nazionale è lamentarsi di ogni cosa faccia il governo in carica Jobs Act? Merda riforma della scuola? Merda manovra finanziaria? Merda 80 euro in busta paga? Super merda bonus cultura? Merda gestione delle crisi? Merda unioni civili? Merdissima è tutto male tutto malissimo e ci sta magari uno ritiene che questo e il passato governo siano i peggiori della storia sono democraticamente eletti però allora non aveva senso criticarli allora Gentiloni è incriticabile perché è democraticamente eletto questo governo non è eletto da nessuno ti ammazzo poi mi ammazzo poi il mio spettro ammazzerà il tuo spettro la lista dei paesi da bannare USA l'ha redatta Obama si è vero e non sappiamo nemmeno perché ci abbia messo quei paesi e non altri visto che ora in tanti si chiedono come mai siano stati scelti dei paesi che non hanno mai veramente prodotto terrorismo su suolo statunitense ed escluso altri come l'Arabia Saudita che è invece tutta un'altra questione il problema però è che Obama non ha mai bandito l'ingresso o pensato di rimpatriare la gente quella lista che include Iraq, Iran, Siria e quant'altro e a parte che la si poteva modificare non è scritta sulla pietra fu redata per escludere specifiche nazioni da un programma di facilitazione per l'ottenimento dei visti parliamo di un programma che si chiama Visa Waiver Program e permette a molti individui non americani di ottenere un visto turistico lavorativo di massimo 90 giorni senza dover passare per la tragedia di dover fare il visto Visa questo programma è però stato attivato soltanto per alcune nazioni le altre, quindi quelle in quella lista, non erano completamente escluse semplicemente per ragioni di sicurezza dovevano passare per i canali classici tutto qui, non c'è nessun complotto Trump sta prendendo decisioni pericolose che hanno un impatto diretto su milioni di persone e lo sta facendo un po' a cuor leggero non è vero Obama ha bloccato per sei mesi gli ingressi no, non proprio nel 2011 e fu criticatissimo per questo ed è una briciola a confronto Obama sospese per sei mesi la richiesta di domande d'asilo soltanto dall'Iraq a seguito della scoperta di un attacco terroristico in preparazione cioè si accorsero che in Iraq stavano preparando un attentato ma anche in quel caso mica disse eh no, sei nato in Iraq non puoi entrare assolutamente sospesero però l'approvazione delle domande d'asilo che poi ripresero normalmente c'è un'enorme differenza tra rallentare un processo burocratico e arrestare la gente in aeroporto che non ha fatto niente sono proprio due cose diverse dai raga sono due cose diversissime da qui in poi solo opinioni personali questa politica secondo me farà accadere tre cose la prima peggiorerà la radicalizzazione interna sono anni ormai che si ripete come il processo che porta le persone a diventare terroristi sia figlio dell'emarginazione dell'incapacità di trovare sbocchi personali del sentirsi messi da parte abbiamo interviste a ex combattenti che provano questa cosa qui video interviste, reportage, ricostruzioni delle vite di colori quali hanno insanguinato l'Europa in questi anni quindi cosa fai? fai scelte inutili di facciata per mostrare ai tuoi fan che sei l'uomo forte al comando che incasinano tutto, vengono immediatamente impugnate e aumentano quel senso di isolamento delle comunità islamiche le persone discriminate covano il risentimento è la ragione per la quale facciamo finta in Italia di non discriminare i pugliesi anche se ovviamente tutti quanti attorno alla regione vorrebbero perlomeno dei checkpoint per evitare che se ne vadano in giro per la nazione punto 2 questa cosa butta al cesso anni di negoziazione con l'Iran tutti stanno sempre a guardare l'Arabia Saudita che è un casino e dicono buche schifo con l'Arabia Saudita è come l'Isis ma in bianco con il petrolio va bene va benissimo ma l'Iran? guardiamo anche l'Iran è un paese pericoloso sotto tanti aspetti e tutto si può dire tranne che l'amministrazione Obama non abbia fatto passi da gigante nel ricercare il processo di avvicinamento e di pace con gli iraniani tanto da incrinare un po' i suoi rapporti con gli altri partner come appunto i sauditi o gli israeliani poi arriva Trump e caga un bel panettone su tutto questo lavoro ahhh e non far ridere nemmeno la battuta intendo quello è un new limit non sono ancora uscito dalla fase delle battute sulla cacca sono troppo immaturo ma per il resto dovremmo averlo imparato la destabilizzazione del Medio Oriente non far ridere abbiamo centinaia di migliaia di profughi alle porte e morti nel mare a ricordarcelo è anche un nostro problema dal quale noi non siamo in grado di sottrarci punto 3 se si fa passare l'idea che sia ok chiudere le porte indiscriminatamente alle persone in base al luogo nel quale sono nate quella porta rimane per sempre aperta se a farlo è il paese che ha da sempre fatto dell'accoglienza e dell'interventismo internazionale la sua forza non credo di dover raggiungere nient'altro è tutto ragazzi non ho più tempo questa puntata è strana questa settimana inizia modo strano i commenti sono in descrizione troverete tantissima persona a dirmi che sono di parte anche se che fmanga tra noi io non ho votato alle presidenzie americane fate i bravi ci vediamo domani ciao 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 ciao